Direi che possiamo iniziare, siamo già più di 90 persone collegate, quindi benvenuti, benvenute a tutte e a tutti. Io sono Daniela Callegaro e sono la responsabile culturale dell'area nord-est di Banca Etica. Vi do il benvenuto a questo webinar organizzato dal nostro GIT, il gruppo di iniziativa territoriale di Ferrara e dal titolo Transizione ecologica Sarà Veragloria. Questa sera avremo modo di farci un po' di domande principalmente e speriamo anche di avere qualche risposta. Iniziamo subito con qualche ringraziamento in primis al GIT, quindi al nostro gruppo di soci attivi sul territorio di Ferrara per l'impegno che ci mettono, per l'impegno profuso da sempre in questi anni nelle attività di diffusione della finanza etica nel territorio di Ferrara. Lascio quindi subito la parola ad Alberto Mambelli che è il coordinatore del gruppo dei soci attivi per un saluto iniziale. Vai Alberto. Grazie, buonasera a tutti e un ringraziamento come già Daniela ha iniziato particolarissimo agli oratori perché noi l'abbiamo proposto ma qualcuno ha raccolto insieme e un saluto di quelli che sono collegati via Zoom visto che le attuali precauzioni sanitarie ci costringono a collegamenti a distanza, avremo più desiderato trovarci un po' dal vivo. Comunque come detto io sono il coordinatore di Ferrara, faccio con piacere e mi onoro di questo e porto soprattutto la voce dei soci. Vi chiedo di spegnere i microfoni. Qui mi sa che ci sono la bambina. Vai Alberto il tuo è spento. Ok vai. Allora quindi vi ho ringraziato, sono il coordinatore di Ferrara e qui noi abbiamo cosiddetto GIT, gruppo di iniziativa territoriale, cioè un gruppo all'interno di tutti i soci che si assume l'onere, l'onore, di portare avanti la banca etica, cioè l'etica nella banca, sembrava quasi uno stimolo, invece è una realtà che sta conquistando il mercato, cioè questo punto di incontro tra risparmiatori consapevoli e responsabili e iniziative socio-economiche che hanno a cuore soprattutto lo sviluppo umano e sociale. Il GIT, non posso non dirlo, è un'iniziativa, è un piccolo modesto laboratorio di idee e di progetti che ha messo sede già da tempo nella provincia, in modo particolare Ferrara, recentemente si è ristrutturato, ha una sede per cui non è detto che Banca Etica non abbia un suo recapito perché non è un recapito della banca ma è un recapito dei soci, però all'interno di questo recapito noi abbiamo la consulente di finanza etica Anna Maria che è ferrarese per cui facilmente è reperibile e molto disponibile e abbiamo ripreso un cammino e ci auguriamo di portare avanti molto. Qui occorre impegnarsi, quindi abbiamo detto una presenza attiva nel territorio, ma per giungere a un cambiamento di mentalità di tutti, per sentirci tutti, come dicevi, abbiamo detto più volte in Banca Etica, cittadini responsabili e accettare la sfida culturale nella speranza che per essere capaci di costruire una nuova umanità occorre riuscire ad elaborare nuove strutture di pensiero economico e lavorarci perché occorre uscire da una strettoia che ci costringe a rivedere costantemente i nostri gesti. Quindi quello che portiamo avanti è una proposta etica per costruire un mondo diverso, dicevo, in cui abbandonare la deriva speculativa che oggi sembra preeminente, per incorporare sistematicamente uno studio del giusto profitto consolidando la dimensione dell'impatto sociale e ambientale della finanza nel mercato e in ogni scelta di investimento. Questo qui è un po' un giudizio. Però abbiamo scelto questo titolo perché abbiamo fatto recentemente un questionario e del risultato prioritario l'esigenza di un approfondimento sul tema economico, ecologico, ambientale. Attorno ai tanti temi che sono resilienza, sostenibilità, economia circolare o bioeconomia, abbiamo scelto transizione ecologica anche perché è di attualità anche se è un'altra cosa che ha radici un po' più vecchie, però è diventata anche di moda visto che ormai il governo Draghi ha autorizzato l'avvio di un ministero apposito. Ringrazio quindi fin d'ora gli oratori per il prezioso contributo che ci permette di cogliere gli aspetti più significativi ben sapendo che occorrono urgenti provvedimenti per progettare, valutare e realizzare progetti in tempi definiti per una trasformazione del sistema produttivo più rispettoso dell'ambiente, della natura e anche dell'uomo stesso. Grazie ancora e passo la parola nei tempi dovuti agli oratori. Bene, grazie Alberto, grazie di questo saluto e di questa introduzione che ci ha già portato dentro alla tematica di questa serata. Vi ricordo alcune regole della casa, ormai siamo abituati tutti a questi webinar, però vi ricordo che questo webinar come vedete in alto a sinistra è registrato, quindi se non vi va che la vostra faccia venga registrata vi chiedo di spegnere la telecamera ed eventualmente se lo ritenete opportuno anche di togliere il vostro nominativo e l'altra cortezza se avete delle domande da fare ai nostri relatori potete utilizzare la chat poi sarà cura mia e di Teresa Masciopinto che è la mia collega che mi aiuta nella gestione di questa serata gestire le domande che arriveranno in chat. Ci siamo dati un tempo fino più o meno alle 19.30 per chiudere il nostro webinar e direi che possiamo iniziare. I relatori di questa sera saranno Giangaitano Pinnavaia che è un docente a contratto dell'Università di Bologna Alessandro Rossi che è direttore delle politiche energetiche e ambientali per Anci Emilia Romagna e Alessandro Messina direttore generale di Banca Etica. Ognuno di loro ci darà una lettura diversa e delle sollecitazioni differenti sul tema appunto della transizione ecologica che appunto è diventato di comune accezione con la recente istituzione di un ministero dedicato. È un tema come diceva Alberto che interessa molto i soci e le soci di Banca Etica da sempre la tematica ambientale è una tematica cruciale per Banca Etica e lo è anche quotidianamente sia rispetto proprio ai tipi di finanziamenti che scegliamo di fare e ci poniamo quindi la domanda di cosa è finanziabile e cosa no dal punto di vista della sostenibilità ambientale, dell'impatto socioambientale e lo facciamo anche in tutti i nostri documenti dallo statuto della banca e quindi nella sua fondazione ma anche nei documenti più attuali come l'ultimo piano strategico dove la tematica proprio ambientale è di fondamentale importanza per tutti noi. Quindi diamo la parola ai relatori e sfruttiamo questo momento proprio per per farci nuove domande e per darci qualche spunto di riflessione e per aprire anche un dibattito tra di noi. Quindi lascio la parola a Gian Gaetano Pinnavaia per una prima introduzione e poi proseguiremo. Vado a condividere lo schermo? 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 Grazie a condividere lo schermo? Ecco. Bene. Benissimo. Bene. Posso cominciare allora? Certo. Faccio partire il cronometro così. Io ti ricordo quando mancano… Mi sembra. Allora, buonasera a tutti, io ringrazio l'Istituto Banchetti per questa opportunità, intanto mi scuso per la voce che è questa che ho, spero che mi sentiate abbastanza bene, ringrazio anche gli organizzatori ovviamente. Inizio. Direi che questo tema, l'alternazione ecologica, può essere trattato da diversi punti di vista e secondo vari approcci, anche penso facendo una lista della spesa, un elenco di cose da fare. Non farò questo, ma inizio premettendo una sorta di criterio di lettura. Per molti anni abbiamo sentito provenire dal mondo ambientalista questo slogan, pensare globalmente, agire localmente. Io credo che oggi, in qualche modo, sia necessario ribaltare lo slogan in pensare localmente e agire globalmente. Non è che questo che ho detto debba sostituire lo slogan originario. Credo che vadano tutti e due e possano convivere. Però credo che in questo momento sia forse più utile questo secondo, pensare localmente e agire globalmente. Perché è evidente, già da tempo, come non sia più sufficiente la sola azione locale per realizzare i cambiamenti necessari a modificare la situazione drammatica in cui l'umanità oggi si trova. Ci si può chiedere, ma chi è che deve agire allora? Beh, le istituzioni, le istituzioni di qualsiasi tipo e livello, istituzioni locali, internazionali, ma spinte e stimolate dai cittadini, gruppi, movimenti, che sono espressioni della democrazia partecipata. Io credo che questo sia quello che abbia chiesto qualche anno fa, quando è apparsa sulla scena mondiale, e continua comunque a chiedere, la ragazzina Greta Thunberg. Ha chiesto ai potenti del mondo di agire e di farlo in fretta, partendo da una propria realtà quotidiana, la scuola. Quindi, io sono convinto che oggi sia indispensabile un'azione globale, che, ripeto, sono le istituzioni, le agenzie internazionali a dovere fare, ma un'azione stimolata da un pensiero locale. Detto questo, come premessa passo a fare alcune considerazioni, partendo dalla realtà italiana, come è stato detto anche da Daniela nella sua introduzione. Sappiamo che da due mesi, pochi mesi, con il sediamento del governo Draghi, è stato istituito il Ministero della Transizione Ecologica. E qui ho messo un elenco di alcune delle caratteristiche di questo ministero. Il ministero che organizza competenze e strutture di alcuni di castelli, sostituisce il Ministero dell'Ambiente, che aveva la visione di Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, inoltre assorbe alcune delle competenze chiave nel processo della transizione ecologica, in particolare inerente al settore energetico. In più, per questa nuova struttura è previsto un passaggio di alcune direzioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi, un'importante novità per il nostro Paese, la cui azione andrà seguita e monitorata. Tra l'altro, proprio in questi giorni, abbiamo assistito a alcune polemiche, insomma, legate alla via libera delle trivellazioni nei mari italiani, in particolare nell'Aderiatico. Continuo quindi dicendo che nelle caratteristiche che ho elencato troviamo, che ho messo in grassetto, il termine processo. Perché il processo, quindi, della trivellazione ecologica, che, a mio avviso, deve riguardare tutto e tutti. E non deve essere solo un fatto tecnico. Cioè, non dobbiamo affidarci alla sola tecnologia per pensare che questa sia la soluzione per risolvere i problemi in cui ci troviamo, in cui ci dibattiamo. A questo punto, penso sia utile, dovrei cercare di togliere, vediamo se riesco, ecco, tanto lì. Noi vediamo bene, Sancho. Sennò era la finestra che mi copriva parte dello schermo. Quindi, dicevo, dare una definizione dei termini. A cominciare la transizione che, proprio prendendo, preso dal vocabolario, e nel vocabolario ci sono diverse definizioni, ovviamente, il significato è vario. Ho scelto due definizioni, queste che vedete descritte. Cioè, passaggio, in AB2 è un passaggio, la transizione, nel primo caso spontaneo o provocato, di un sistema, da uno stato ad un altro. La seconda definizione è un passaggio tra due condizioni, due epoche, due modi di vita. Quindi, la seconda definizione, in particolare, stimola sicuramente riflessioni interessanti. Cioè, la transizione dovrà essere un passaggio, un percorso, da fare concretamente, dalla situazione odierna, verso una società umana sostenibile, che lascia alle spalle un'epoca per aprirne un'altra, diversa. Chi dovrà intraprendere questo percorso? Tutti noi, come ho detto prima. E questo prevede un cambiamento profondo delle modalità di vita, che a sua volta prevede un grande impegno, grande volontà, grande determinazione. L'altro termine di transizione ecologica è, appunto, ecologico, che richiama ecologia, ovviamente. Termine che, sappiamo tutti, in questi anni è stato usato spesso in modo improprio. Spesso associato scorrettamente o in modo non consono a cose che non hanno nulla a che fare con il vero significato, che è quello scritto qui. Cioè, l'alcologia è una disciplina scientifica, una branca della biologia, che studia rapporti tra organismi viventi e ambienti circostanti. Ecco, nella prima definizione, cioè la definizione di transizione, ho messo il sistema, ho messo il termine, cioè troviamo il termine sistema. Sistema che, e qui faccio riferimento a un testo uscito due mesi fa circa, quindi molto recente, che già dal titolo fornisce diverse riflessioni. L'autore, Federico Butera, è un ex docente del Politecnico di Milano, docente di fisica tecnica ambientale. In questo testo, scrive Butera, nell'introduzione, le finalità sono anche didattiche. Questo sicuramente ne aumenta l'interesse, in quanto l'autore è cosciente di quanto sia importante un cambio di mentalità. E anche questo è in transizione ecologica. Ma di più, un mutamento culturale profondo, un unico modo per assumere con consapevolezza i processi necessari al cambio di paradigma che siamo chiamati a realizzare. Poi, nella prefazione, viene scritto che questo libro tratta forse il tema più interessante, più caratterizzante, scusate, della nostra epoca. Cioè, quello delle interconnessioni. E nel secondo riquadro troviamo un po' una spiegazione. Questo perché, da molti anni, molti decenni, i ricercatori, la scienza, nell'ambito delle più svariate discipline, hanno compreso come il mondo, sia quello umano, della società umana, che quello della biologia, sia una realtà profondamente complessa e interconnessa. Dove i fenomeni climatici e ambientali inciscono con quelli umani e sociali e viceversa. Quindi passiamo al terzo riquadro, dove troviamo scritto che, questo sempre nell'introduzione del libro, le modalità con cui produciamo e consumiamo, ci muoviamo e organizziamo gli spazi urbani e rurali, produciamo il cibo, otteniamo l'energia e la distribuiamo, hanno un impatto spesso devastante sugli ecosistemi e di conseguenza sul nostro benessere, cioè sulla qualità della vita, ma anche, ultimamente, anche, direi, sulla tragica situazione in cui ci ritroviamo. La seconda considerazione è che non siamo abituati a ragionare in termini di interconnessioni complesse e continuiamo a pensare, ad agire come se i rapporti causa-effetto fossero lineari, mentre dovremmo ragionare in termini di sistema. E a questo punto passo alla successiva, dove mostro come la realtà possa essere rappresentata linearmente, ed è quello che vediamo qui, dove una serie di operazioni sono una di seguito all'altra. Questo che vedete è un esempio, naturalmente, questa linearità, questa è una linea retta, ma potrebbe anche essere curva, quindi potrebbe anche tornare all'inizio, ma sempre è lineare. Invece, una rappresentazione più realistica della realtà, passatemi il termine, è questa che vedete a destra, cioè una rappresentazione sistemica. Perché la rappresentazione sistemica mi permette di evidenziare le interconnessioni? E questo lo si vede dall'esempio riportato, che è uno dei tanti esempi che si possono fare, dove troviamo dei nodi all'interconnessione dei flussi, flussi di materiali, di servizi, con degli input, per esempio queste attività ausiliari, che arrivano dall'esterno, e così via. A questo punto, alla luce di quanto detto, riporto una possibile rappresentazione, l'attuale rappresentazione non corretta, dello sviluppo sostenibile, dove le varie componenti, le principali componenti, che sono società, economia e ambiente, hanno un ugual peso e devono trovare uno spazio di sintesi in questo modo. In realtà, possiamo fare questa considerazione. Dagli anni 50 del secolo scorso, con la cosiddetta grande accelerazione, si è assistito senza dubbio, da un lato, un miglioramento della qualità della vita molto rapido, perlomeno nei paesi industrializzati, ma a discapito dell'ambiente, cioè le componenti, società ed economia, hanno preso il sopravvento sull'ambiente. Nella parte destra della slide, invece, ho riportato quella che può essere una rappresentazione corretta dello sviluppo sostenibile, dove le esigenze economiche sono vincolate dalle esigenze sociali, e entrambe sono vincolate dalle esigenze ambientali, che sono alla base di tutto. Quindi, questo ci porta a fare questa considerazione, cioè a ripensare, diciamo, si sta facendo da tempo in realtà, alla relazione uomo-ambiente. Cioè, dobbiamo renderci conto che gli esseri umani sono parte di un sistema vivente e uscire dall'equivoco, convinzione, spesso disinteressato, scusate interessato, perché falso, secondo cui lo sviluppo sostenibile è dato dell'equilibrio tra esigenze economiche, sociali ed ambientali, che sono tutte sullo stesso piano. Cioè, l'ambiente, la biosfera, la terra tutta, non è una componente come le altre, ma il sovrasistema, che con le sue leggi e i suoi limiti, di cui gli umani sono parte, quindi con le sue leggi e i suoi limiti, di cui gli umani sono parte. Questo, quindi, porta a dire che per troppo tempo si è pensato di essere qualcosa, cioè l'essere umano ha pensato di essere qualcosa di esterno, addirittura di estraneo all'ambiente e alla terra. E questo ha portato alla situazione attuale. Possiamo allora dire, farci questa domanda, che è la tecnologia che ha preso una strada sbagliata? Sì, possiamo rispondere di sì, ma la tecnologia, sappiamo, è stata inventata dall'uomo ed è governata dall'uomo. E a questo punto, per dare una spiegazione un po' più approfondita di quanto detto, vorrei fare alcune considerazioni, diciamo, tornando, facendo un passo indietro nel tempo, e dicendo come un po' tutto è cominciato. Naturalmente, voglio dire che a livello mondiale da decenni si sono realizzate ricerche legate a queste tematiche, però si può dire che, possiamo così dire, che a Uriaglio Peccei nel 68, quindi circa un ventennio dopo la fine del secondo conflitto mondiale, imprenditore e manager con la passione per l'ecologia, appunto, alla fine degli anni 60, riunisce a Roma, assieme allo scienziato scostese Alexander King, alcuni studiosi presso la sede dell'Accademia di Lincei. e assieme danno origine al Club di Roma, un'associazione non governativa e non profit che da allora persegue una missione, quella di individuare i principali problemi che l'umanità si troverà ad affrontare in un contesto mondiale e alla ricerca di soluzioni alternative. Uno dei primi atti dell'attività del gruppo fu la richiesta all'MIT di stendere un rapporto sullo stato del pianeta e di prevedere cosa avrebbe provocato la crescita economica che dal dopoguerra ha caratterizzato i paesi sviluppati. Il rapporto è stato pubblicato nel 72 e questo rapporto giungeva a questa conclusione che la Terra, nel giro di qualche generazione, sarebbe andata incontro ad eventi catastrofici a causa del superamento delle capacità del pianeta di sopportare le attività industriali umane. Successivamente, negli anni successivi, sono stati pubblicati alcuni aggiornamenti, il primo nel 92, in cui si sosteneva che erano già stati superati i limiti della capacità di calcolo del pianeta. Il secondo, molto importante, nel 2004 perché l'aggiornamento ha spostato dall'esaurimento delle risorse alla degradazione dell'ambiente. Infine, un terzo aggiornamento, ricerche e aggiornamento, nel 2008, effettuata dall'Oxiro, centro di ricerca australiano, aveva messo a confronto i dati negli ultimi 30 anni delle ricerche sull'ambiente, ambientali, con le previsioni effettuate nel 72. E la conclusione è stata che le previsioni del 72 erano coerenti, cioè i dati delle ricerche degli ultimi 30 anni erano coerenti con le previsioni del 72 di un collasso economico-ambientale nel XXI secolo. Tre minuti, sei già in metà. Sì, vado al cerco di andare velocissimo. Come ha fatto Peccei, come fece a capire tutto questo con così grande anticipo? La risposta alla prima domanda è perché ha dato un modello sistemico, quello che un po' abbiamo visto prima, che ho spiegato prima. Perché fino ad allora, diciamo, ancora oggi, tutto sommato, il modello era basato sull'approccio, privilegiava saperi segmentati, gli economisti si occupano di economia, ingegnologi in geologia, biologi in biologia e così via. La risposta alla seconda domanda è che allora i potenti hanno sottovalutato, come ancora oggi, in fondo, l'allarme, rispondendo che la tecnologia avrebbe trovato le soluzioni a tutto e il mercato si sarebbe adattato. A questo punto ci possiamo fare una domanda. Ma che cosa hanno in comune Peccei e Greta Thunberg? Tutti e due, cioè Greta Thunberg dice ascolta gli scienziati, ascolta la scienza e i ricercatori, questo lo diceva anche Peccei allora, ascolta la scienza, gli scienziati, i ricercatori che negli ultimi 50 anni, in particolare nei campi dell'ecologia, della climatologia e in tutte le discipline che studiano l'ambiente terrestre, la biosfera, hanno prodotto un'enorme massa di dati, utilizzando nel corso del tempo strumentazioni sempre più precise e sofisticate. Tutti questi studi fondamentali per la conoscenza della modificazione dell'ambiente da parte delle fiute umane e che hanno anche lanciato appelli nel tempo al mondo della politica, dell'economia e della produzione, chiedendo di invertire la rotta che inevitabilmente sta portando al disastro. Per fortuna che la porta aperta alla Greta Thunberg è stata utilizzata da milioni di giovani che in tutto il mondo oggi da qualche anno scendono in strada per scuotere i potenti di oggi. Cosa possiamo dire allora per interpretare che cosa si dovrà fare per la transizione? Io credo che ci siano due destinazioni obiettivi. Il primo che riguarda la costruzione di una civiltà ecologica. Una civiltà ecologica cioè una società che dovrà essere l'opposto del modello economico di mercato oggi imperante che deve continuamente crescere che incoraggia l'iperconsumismo e non rispetta i limiti dell'ambiente terrestre e che è incompatibile con una civiltà veramente ecologica e sostenibile. Una seconda destinazione obiettivo che è costruire una società solidale una società umana mondiale solidale cioè andare oltre il nostro interesse particolare o più precisamente capire che il nostro interesse particolare è vivere in una società in cui ognuno ha il diritto al pieno sviluppo umano. Concludo con una suggestione che viene che proviene dall'arte qui vediamo una rappresentazione della primavera di Botticelli che è icona della rinascita della natura al centro vi è Venere che rappresenta l'amore ma che è inserita in un contesto che è un inno alla rigenerazione della natura nell'amore di questa rigenerazione credo che l'umanità abbia un estremo bisogno cioè rigenerazione che la natura da se stessa è in grado di attuare in un tempo che però potrebbe non essere quello dell'uomo l'umanità è dunque chiamata a contribuire a collaborare con la natura nella necessaria opera di rigenerazione rinascita ma questo contributo va offerto da una umanità a sua volta rigenerata nell'amore che credo sia unico strumento passatemi il termine per poter vivere in pace tra lui e la natura con questo ho concluso grazie grazie Gian Gretano grazie anche per il tuo intervento che veramente ci ha permesso di entrare nella complessità della realtà anche con tutte queste interconnessioni della visione sistemica che hanno posto proprio l'economia in stretta relazione con la società e con l'ambiente se penso a uno dei punti del manifesto della finanza etica dove si parla proprio dell'attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche mi ritrovo insomma anche in tutto quello che stavi dicendo grazie anche per il messaggio finale della natura al centro e di un messaggio di amore e di speranza che ci sta e adesso passo la parola ad Alessandro Rossi e credo che Alessandro ci aiuterà a capire meglio dove stiamo andando e anche a farci ulteriori domande nel frattempo stanno arrivando alcune sollecitazioni alcune domande nella chat che vi invito ad utilizzare bene vai Alessandro grazie grazie a tutti grazie a chi ha parlato prima Gianga io come dire ripeterò un po' di alcuni concetti che ha espresso Gianga Etano lo faccio aiutandomi con un po' di figurine e parto visto che quest'anno è il cinquantesimo anniversario del primo uomo nello spazio con un'immagine che è quella della nostra palla su cui viviamo che è l'unica palla che abbiamo a disposizione anche se qualcuno crede che prima o poi troveremo altri pianeti dove trasferirci perché questa non è più abitabile parto da questa immagine perché vorrei farvi concentrare su una caratteristica che è molto facile da individuare ci sono dei limiti togliamo la palla e concentriamoci sui limiti e proviamo anche a dare un nome a questi limiti e i nomi sono quelli che abbiamo imparato che abbiamo sentito molto in questi anni perdita di biodiversità l'ozono che ci ripara dai raggi ultravioletti che sta scomparendo poi ritorna poi scompare ancora uso del suolo climate change ve li lascio leggere anche se sono in inglese sono comprensibili ecco come si è ammessi rispetto a questi limiti ovviamente qualcuno ha provato a fare i conti nel 2009 abbiamo abbiamo visto eccolo qua nel 2009 questa era era la situazione e rifacendo i conti qualche anno dopo abbiamo scoperto che in realtà eravamo messi un pochino peggio e c'era una cosa che si chiama cambiamento climatico che stava forse perché nessuno lo sa ancora con precisione ma diciamo che la quasi totalità delle scienziati stanno dicendo che sta andando completamente fuori controllo vedete qui ci sono delle cosine simpatiche oltre alla biodiversità l'uso del suolo e il climate change ci sono cose poco note poco diffuse come il ciclo dell'azoto del fosforo che è completamente fuori controllo e teniamo presente che tutta la nostra agricoltura è basata su fertilizzanti azotati e fosforici ma torniamo alla palla noi questo è un disegno di uno spazio all'interno del quale noi possiamo sviluppare le nostre attività umane probabilmente però bisogna aggiungere anche qualche elemento perché se noi volessimo far limitarci a questo disegno beh un modo per tenere in salvo il pianeta è molto semplice basta sterminare il genere umano e il pianeta si rimette a posto probabilmente non è la soluzione migliore e quindi è necessario considerare un altro limite che è il limite dei diritti singoli e collettivi il diritto al cibo il diritto all'acqua il diritto all'educazione li vedete tutti scritti qua e quindi in questo modo siamo riusciti a disegnare uno spazio che è lo spazio all'interno del quale in sicurezza possiamo sviluppare le nostre attività un modo per dirlo è un'economia durevole e rigenerativa durevole perché non andiamo in debito con le risorse del pianeta rigenerativa perché comunque all'interno di questo spazio possiamo trovare modo di far evolvere le persone e il genere umano voi capite che è un disegno di questo tipo e con questo vi ho raccontato che cos'è l'economia della ciambella e se trovate se cercate in internet troverete tante cose su questo è un modo completamente diverso dal disegnare dal definire la sostenibilità come per quel piccolo incrocio che c'è tra le tre sfere economica sociale e ambientale perché quel disegno lì ci dice che se riesco a fare la sostenibilità bene altrimenti poi faccio quello che voglio a livello economico a livello sociale o addirittura a livello ambientale per esempio sterminare l'intera specie l'intera specie umana che dal punto di vista ambientale potrebbe avere dei vantaggi ma noi non vogliamo salvare il pianeta noi vogliamo salvare noi stessi il pianeta se la caverà comunque riuscirà comunque a trovare un suo equilibrio anche se la nostra civiltà non avrà non avrà futuro e il rischio che stiamo che stiamo patendo adesso nel nel continuare a fare nel continuare a operare come stiamo operando è proprio quello del crollo della nostra civiltà perché il sistema non è più in grado non è più in grado di reggere ma perché non riusciamo a ragionare in questi termini quindi concettualmente a stare all'interno di questa corona circolare oppure se preferite di questa di questa ciambella qui adesso io vi parlo di un signore che è un uno psicologo israeliano che nel 2002 ha vinto il premio Nobel per l'economia e ci ha banalmente spiegato che il cervello dell'uomo è fatto in un modo strano è molto abituato a reagire velocemente di fronte a un problema con una soluzione che io qui ho chiamato soluzione sintomatica e invece è molto meno abituato a trovare invece la soluzione sistemica Gian Gaetano prima parlava di sistemi di sistemi complessi all'interno dei quali ragionari e proprio per quello noi cerchiamo sempre di ricondurre tutta la semplicità e e per questo facciamo fatica poi a intervenire su un sistema complesso il libro che vi racconta queste cose si chiama proprio pensiero lento e pensiero veloce e sono due zone diverse del nostro cervello che intervengono per per prendere delle decisioni sono cose notissime per esempio chi distribuisce le merci all'interno dei supermercati noi siamo fatti in un certo modo e agiamo di conseguenza e le due zone del cervello si sono evolute in maniera diversa pensiamo quando c'era la tigre con i denti a sciabola nella savana se non correvamo in fretta appena la vedevamo eravamo spacciati per questo si è sviluppata molto la soluzione veloce perché evolutivamente il pensiero veloce è quello che ci salva dal pericolo immediato siamo ancora indietro nella nostra evoluzione per ragionare in modo sistemico e vi faccio qualche esempio anzi prima analizziamo le due differenze tra le due soluzioni la soluzione veloce il pensiero veloce non modifica il sistema nel quale siamo e risolve immediatamente il problema è misurabile e tendenzialmente nel mondo attuale è tecnologica noi quando vediamo un problema con la tecnologia pensiamo di risolvere tutto la soluzione sistemica invece comporta un ritardo un ritardo che è la riflessione cercare di capire che cosa bisogna fare e un ritardo anche nella soluzione del problema perché intervenendo sul sistema ci vuole del tempo per modificarlo non solo ma siccome non sappiamo bene cosa fare in un sistema complesso è difficile capire bene come quali sono tutte le interazioni tra i vari elementi potremmo anche sbagliare e l'errore è un concetto che nel nostro armamentario culturale è tremendo mentre dobbiamo cominciare a ragionare di fare tentativi che dobbiamo fare dei tentativi e poi riconoscere che eventualmente sono sbagliati e cambiare pensate nella politica per esempio un politico che fa uno sbaglio è un politico finito e magari quello stava cercando di trovare una soluzione adeguata alcuni esempi economia circolare noi ancora una volta mi batto contro le rappresentazioni che tendenzialmente vengono date dell'economia circolare nell'economia circolare quando parliamo a tutti noi viene in mente il riciclo e la raccolta differenziata io adesso vi faccio partire un filmatino che introduce un concetto che sicuramente come dire mette in crisi questo assioma economia circolare e raccolta differenziata cosa è successo? cosa state vedendo voi? scusami Daniela schermo nero perfetto come sempre entro e riesco dalla condivisione e provo a ripartire tutto normale andiamo più meglio? sì adesso vediamo sì perfetto dell'energia grigia due minuti di filmatino con il concetto dell'energia grigia ok questo è un bicchiere apparentemente un bicchiere non consume energia ma quanta energia è servita per produrlo estrarre i minerali per ottenere il vetro trasportarli allo stabilimento di produzione fondere e formare il vetro spedire i bicchieri al negozio in cui saranno venduti e così via tutta questa energia è ora contenuta nel bicchiere e viene chiamata energia grigia tutti gli effetti negativi che hanno accompagnato la produzione di questa energia sono invece finiti nell'ambiente abbiamo infatti prodotto inquinamento e consumato risorse limitate e non rinnovabili questo ragionamento vale per tutti gli oggetti che possediamo ognuno porta con sé un carico di energia grigia ciò significa che quando buttiamo via qualcosa buttiamo anche il suo contenuto di energia quando ricicliamo almeno una parte dell'energia viene invece recuperata per risparmiare energia dobbiamo quindi imparare ad utilizzare meno oggetti e ad allungare il più possibile il tempo del loro utilizzo e quando diventano davvero inservibili avviarli a una filiera di riciclaggio ok allora il concetto di energia grigia ci serve anche per analizzare un pochino i ragionamenti che stiamo facendo sul riciclo noi proviamo a riciclare tutte queste frazioni umido, verde, metallo, vetro, carta e plastiche se proviamo ad analizzare rispetto al modellino dell'economia della ciambella vediamo quale di queste è all'interno di quello spazio verde e quale invece comincia comincia ad uscire sull'umido ovviamente è un processo che è sempre avvenuto per milioni di anni ed è un processo biologico che funziona tranquillamente può continuare a funzionare ed è completamente all'interno di quella filiera ma quando di quella corona circolare ma quando andiamo a parlare di metallo e vetro ci dicono che il metallo è potenzialmente è riciclabile all'infinito sì se fosse puro ci mettiamo le vernici ci mettiamo degli altri degli altri componenti e quindi quando lo ricicliamo via via degrada la qualità lo stesso dicasi per il vetro per non parlare di carta e plastica perché poi la carta riciclata se pensate ai processi a cui è sottoposta dopo sette volte non rimane più niente da riciclare per non parlare poi ancora delle plastiche plastiche perché la plastica non esiste esistono tante tipologie di plastiche diverse con ognuna di queste si possono fare delle cose con molte di queste non si può fare nulla e con quelle poche con cui si può fare qualcosa anche qui abbiamo abbiamo dei problemi e più di tanto non possiamo riciclarle ogni operazione industriale è un'operazione non reversibile che porta quindi a un degrado e soprattutto comporta consumo di risorse e prodotti di CO2 allora il tema è ha senso quella figura che vi facevo vedere prima dell'economia circolare tutta tonda o forse non ha più senso questa che vi fa vedere il ciclo di uso e riuso che è quello su cui dobbiamo concentrare la massima parte degli sforzi tenete presente che queste cose non le dico io ma queste figure è tratta dal rapporto dall'ultimo rapporto della Corte dei Conti europea sull'economia circolare che mette in evidenza la necessità di investire investire di più su questo su questo ciclo tornando al nostro pensiero lento e pensiero veloce per noi è molto facile e molto semplice parlare di riciclo perché non modifica nulla di quello che stiamo facendo è molto più complicato invece ragionare di riduzione di monouso perché noi il monouso lo stiamo utilizzando abbastanza e poi abbiamo di fronte dei panorami del genere di fronte a questi panorami la reazione immediata qual è? Abbiamo le plastiche disperse nell'ambiente e ci inventiamo il plastic tree e col plastic tree con questo motto cosa abbiamo cosa abbiamo cosa è successo in realtà nel sistema in realtà nel sistema è successo questo che abbiamo cambiato il materiale e oggi ci sono tanti di questi prodotti che stanno uscendo chi va in treno con Trenitalia si ritrova la sua la sua lattina di acqua in alluminio materiale prezioso è sicuramente molto più impattante in termini energetici della bottiglia di plastica o addirittura sostituiamo la plastica con la bioplastica che è plastica uguale solo che si degrada nell'ambiente in qualche decina di anni non lo sappiamo ancora in quanti e a differenza della plastica che si degrada in centinaia se non migliaia di anni ma l'effetto che avremmo sulle spiagge abbandonandola dell'ambiente sarebbe uguale a prima e comunque se la tartaruga la mangia se il delfino la mangia se la megattere la mangia muore lo stesso oppure per quanto riguarda il monouso diciamo basta plastica la sostituiamo con la carta o addirittura con il legno con la fibra di legno come se gli alberi non fossero una risorsa preziosa oppure sostituiamo il monouso con ancora materiali in bioplastiche tanto è biodegradabile sì è biodegradabile solo in impianti industriali che per almeno 90 giorni possono mantenere una temperatura attorno ai 60 70 gradi quindi ulteriori interventi di energia vado avanti con gli esempi ma tanto li conoscete tutti le cialde le cialde del caffè sono sono un problema anche queste le sostituiamo con la bioplastica o altri o altri elementi è difficile ma siamo mai riusciti a risolvere il problema del monouso? ma io ho visto che sono a Ferrara ho voluto fare un esempio che è vicino a noi e dopo vi racconto qualche decennio fa tutti gli scaffali dell'ortofrutta erano dei nostri supermercati erano utilizzavano delle cassette monouso e questo vuol dire che avevamo tante di queste cose che poi dovevano essere buttate perché per motivi igienici non potevano essere utilizzate perché sono materiali costruiti per essere usati una volta sola e oggi invece nella quasi totalità dei supermercati troviamo cose di questo tipo e cose di questo tipo le abbiamo inventate proprio da queste parti CPR System è un'azienda di Gallo che ha costruito la propria il proprio oggetto di business attorno al al riutilizzo delle cassette quindi ha costruito una filiera fatta con produttori e distributori in cui la frutta viene riposta dal produttore all'interno di una cassetta viene portata nella grande distribuzione all'interno di quella cassetta e quando è vuota la cassetta ritorna a CPR System che la sanifica e la fa riutilizzare questo ha voluto dire sostituire il lavoro che c'è nel riciclo con tutti i limiti che ha di un rifiuto con un lavoro sicuramente di più elevata qualità che è quello del mestiere che fa la CPR System un'azienda in più con posti di lavoro in più bene abbiamo risolto un problema ma ovviamente ne stiamo creando altri perché adesso ci divertiamo a fare le porzioni già pronte protette da una plastica in maniera tale che quando le mettiamo nella sporta non si schiaccino vedete che facciamo fatica a definire delle soluzioni che stiano dentro quella corona circolare o quella ciambella allora tornando al nostro schema pensiero lento pensiero veloce di fronte alle plastiche disperse nell'ambiente la soluzione vera è quella la soluzione profonda la soluzione sistemica è quella di eliminare il monouso io ho scritto eliminare ovviamente non potrà essere eliminato ma di ridurne drasticamente l'utilizzo e vi lascio con un motto così l'ho ripetuto un paio di volte giusto per ricordare che il problema non è la plastica ma è il monouso volevo essere un pochino invasivo velocemente vado a farvi un altro esempio quando parliamo di transizione energetica noi vediamo che tutti i piani energetici sia dell'Unione Europea che nazionali che regionali che addirittura dei comuni che sono quelli che io seguo sono concentrati su due interventi strutturali efficienza energetica e fonti rinnovabili ma è sufficiente? Proviamo a ragionare sull'efficienza energetica e anche qui mi aiuto con un filmino per raccontarvi un certo signor Gerbonso che cosa ci dice per risparmiare energia viene spesso suggerito di sostituire tecnologie vecchie con altre più recenti molto più efficienti a volte può essere una buona scelta ma attenzione al paradosso di Jevons già alla fine dell'ottocento l'economista William Stanley Jevons notò che in Inghilterra si erano sostituiti motori a vapore poco efficienti con altri molto più efficienti questo faceva sì che venissero installati molti più motori e il consumo complessivo di carbone aumentava invece che diminuire lo stesso vale per gli oggetti della nostra epoca più diventano moderati nei consumi più aumenta la loro presenza nelle nostre vite e la propensione al loro uso un interessante studio della International Energy Agency mostra come dal 1990 al 2007 i consumi di energia degli elettrodomestici negli Stati Uniti siano calati drasticamente mentre i consumi elettrici delle famiglie hanno continuato ininterrottamente ad aumentare il solo modo per evitare questo paradosso è conoscerlo e agire di conseguenza cercando di tenere sempre sotto controllo i propri consumi complessivi alcuni consigli prima di sostituire un oggetto chiediamoci sempre ha davvero concluso il suo ciclo di vita? posso riutilizzarlo in altro modo? o passarlo a qualcuno a cui serve? prima di comprare un oggetto nuovo chiediamoci mi serve veramente? e cerchiamo di scegliere sempre oggetti che possano durare a lungo ed essere riparati conoscere i rischi del paradosso di Jevons è quindi importante per riuscire davvero a consumare meno energia meno risorse e proteggere l'ambiente fermo fermo il video comunicazione di servizio tutti questi video li trovate sul canale youtube di Anci Emilia Romagna se ve li volete andare a rivedere quindi anche sull'efficienza energetica sul tema energia un pensiero veloce è quello di pensare di risolvere tutto con l'efficienza energetica ma tutto non si può risolvere dobbiamo certo fare efficienza energetica ma dobbiamo anche avere un chiaro obiettivo per la riduzione dei consumi senza un obiettivo di questo tipo e alcuni piani energetici per esempio in Svizzera c'è l'obiettivo di ridurre i consumi per il flusso di energia per abitanti a 2.000 kilowattora all'anno oggi siamo a 7-8.000 senza un obiettivo di questo tipo noi non riusciremo mai a stare dentro la ciambella sto finendo vado avanti con un esempio molto rapido per esempio per la mobilità noi pensiamo che l'auto elettrica risolva quando in realtà non potremmo mai sostituire tutte le auto elettriche tutte le auto che abbiamo oggi con con auto elettriche dobbiamo ridurre il numero di auto e costruire dei sistemi di mobilità che sono diversi vi lascio con alcuni ragionamenti tra le differenze dei due approcci ultima considerazione non dobbiamo considerarli alternativi ma dobbiamo considerarli complementari noi tendenzialmente siamo concentrati e tutte le politiche sono concentrate sulla parte sinistra e la parte verde pochissime politiche sono concentrate sulla parte blu è il momento di cambiare e di visto che siamo con Banca Etica di finanziare quello che sta da questa parte mi fermo grazie grazie Alessandro direi che Alessandro Messina direttore generale di Banca Etica ti ha dato il gancio Alessandro nella parte finale quindi ti lascio direttamente la parola così poi anche abbiamo qualche minuto per rispondere a un po' di domande che sono arrivate nella chat e quindi grazie intanto ai due relatori che direi che ci hanno fatto veramente un quadro molto efficace nella sintesi sia della complessità ma anche delle soluzioni che abbiamo davanti raccolgo l'assist rispetto al ruolo di Banca Etica che ovviamente è ben consapevole delle sfide che abbiamo davanti come comunità come collettività io ricordo faccio una battuta di ordine personale la prima volta ho sentito parlare di Banca Etica era il 1996 e in un centro sociale a Roma c'era una cosa che chiamavano l'università verde che era una specie di piccola università ambientalista coordinata da Giorgio Nebbia dove venne Wolfgang Sachs a parlare Tonino Perna un po' di persone che poi insomma hanno avuto il loro peso su alcuni discorsi e venne anche un ragazzotto giovane con la barba un po' grosso che si chiamava Kubigeri e che parlò di questo progetto di Banca Etica quindi per me personalmente oltre che per il ruolo che ho c'è un'intima connessione tra tutto il tema della del modello di sviluppo e quindi della crisi ambientale che stiamo attraversando e la finanza etica che è un tema forte per tutti coloro che si avvicinano a Banca Etica anche perché mi sembra che oggi è emerso chiaramente questa sera è emerso chiaramente una parola che entrambi i relatori hanno usato spesso hanno parlato di problemi di questioni sistemiche ecco il tema è importante il termine è importante perché c'è un'altra cosa che è sistemica e che non si affronta come dire a pezzettini e che è la finanza e c'è una profonda connessione tra i temi singoli che poi di volta in volta ci troviamo ad affrontare quando parliamo di crisi ambientale ma anche di crisi sociale di diseguaglianze di futuro rubato alle generazioni che verranno e ruolo della finanza il tema non è tanto secondo me cosa può fare Banca Etica nell'immediato e quel poco che può fare lo farà però è poco i problemi sono molto grandi allora Banca Etica nasce per dimostrare che si può fare una finanza differente e credo che come ha detto Alberto Mammelli all'inizio stiamo riuscendo a dimostrarlo non solo stando in piedi ma anche funzionando bene crescendo e quindi dimostrando in tempi in cui non è facile fare banca che questa formula non solo funziona ma addirittura a volte è più efficiente di altre la questione è contaminare gli altri e far vedere a chi prende decisioni importanti quindi chi governa chi detta le regole che bisogna cambiare qualcosa bisogna cambiare qualcosa nel paradigma che abbiamo in testa e qui vengo a un tema molto più vicino a quello di cui parliamo oggi siamo dentro una bolla per chi se ne è accorto per chi lo guarda mediatica di comunicazione di propaganda che riguarda la finanza sostenibile dove si associano due parole importanti una è la finanza e l'altra è una parola che ormai è diventata un po' abusata già appunto nell'università verde che frequentavo quando ero molto più giovane 25 anni fa qualcuno ci diceva sostenibilità non vuole dire nulla ecco la finanza sostenibile oggi è una grande tendenza di mercato l'Unione Europea ha fatto i suoi regolamenti tutte le grandi banche si stanno impegnando per la finanza sostenibile tutte si dichiarano finanza sostenibile però poco tempo fa proprio poche settimane fa una coalizione di ONG ci ha detto che sono pari a 3,8 trilioni di dollari 3,8 trilioni di dollari i finanziamenti fatti dal sistema bancario mondiale alle fonti fossili attenzione dentro questo ci sono intesa San Paolo con 13 miliardi Unicredit con 31 miliardi tutte banche che se andate sul loro sito si definiscono sostenibili quindi c'è un problema anche di linguaggio che probabilmente è un problema come dire che parte con una riduzione del problema cioè non è non c'è un approccio sistemico si guardano i palliativi riguarda per primo il legislatore che fa una regolamentazione come quella sulla finanza sostenibile che chiama sostenibile una finanza di prodotto senza preoccuparsi dei suoi impatti altrove senza preoccuparsi dei problemi della finanza come finanza perché se noi abbiamo una situazione in cui continuiamo a rubare risorse agli altri perché le diseguaglianze nascono così quando qualcuno si approfitta degli altri nello spazio o nel tempo io sottraggo risorse nello spazio all'interno di un paese quindi aumenta la polarizzazione dei redditi e delle ricchezze all'interno dei paesi succede in Italia come negli Stati Uniti come in tutta Europa e come a livello mondo allo stesso tempo lo faccio rubando alle future generazioni anticipandomi mi prendo dei soldi che non sono miei dal futuro come me le prendo bruciando risorse naturali questo lo fa la finanza che è sempre più incontrollata guardiamo che la finanza oggi è tornata ai livelli del 2007 quando ricorderete scoppiò la grande crisi finanziaria oggi siamo dentro un'altra crisi che è quella pandemica e la finanza servirà per uscirne ma se è una finanza fuori controllo il rischio è che noi aggiungeremo una crisi a un'altra crisi allora c'è bisogno di veramente fare tesoro di questa idea dell'approccio sistemico di mettere al centro delle nostre riflessioni le diseguaglianze nello spazio come nel tempo e provare a capire ancora una volta che noi possiamo dare l'esempio dimostrare che il denaro può essere usato per produrre un impatto positivo ambientale per non produrlo negativo ma soprattutto che la finanza può diventare un grande volano per il cambiamento del modello di economia di società di relazioni anche tra paesi che oggi continuiamo a guardare come fossero un Moloch mentre c'è bisogno di una prospettiva non effimera di cambiamento e direi che questa metafora si lega bene pure a quella dell'economia circolare un po' un po' di facciata e che magari trascura il monouso ecco forse abbiamo bisogno anche nella finanza di farla girare meno velocemente e recuperarne la sua funzione principale io mi fermerei qua per il momento bene grazie Alessandro adesso è arrivato il momento un po' delle domande che sono arrivate in chat ci sono alcune considerazioni più che domande nella parte iniziale un po' anche sul consumo della carne che viene fatto in Cina e negli Stati Uniti e anche sul contenimento appunto dell'utilizzo della carne e su questo vedete voi se riuscite a fare qualche considerazione mi riferisco a Gian Gaetano ed Alessandro Rossi vi riporto una domanda di Alessandra Guerini dove dice la transizione parte anche soprattutto dal basso non solo a livello politico quali spazi collaborazioni luoghi di dibattito laboratori di idee di piccoli progetti possiamo favorire dal basso per accelerare la transizione ecologica quindi un po' anche il ruolo della società della società civile e ve ne dico anche un'altra e poi video spazio sull'economia circolare fatta da Simone Grillo ci sono prospettive positive per i processi di simbiosi industriale processi di interazione tra impianti industriali per massimizzare il riuso di materie intanto direi che possiamo andare con queste a partire tu Alessandro Rossi si vai si ti chiedo scusa mi sono dimentata la penultima che hai detto Alessandra ah ok Alessandra un po' sul ruolo della società civile dal basso cosa si può fare per accelerare la transizione ecologica cambiare un sistema complesso l'ha detto prima Alessandro Messina è operazione appunto complessa considerate che se Banca Etica è piccola rispetto al molo finanziario di cui ci occupiamo anche l'Europa è piccola all'interno del sistema mondiale e l'Europa forse è l'unico luogo in cui si sta ragionando a livello legislativo per tentare di rientrare con tanti errori all'interno dello spazio della ciambella per provare a non accumulare debito nel tempo rispetto alle persone che ci sono oggi e quelle che ci saranno quindi sì la società civile il confronto è fondamentale anche perché quel tipo della transizione che abbiamo di fronte non è una transizione che qualcuno con una bacchetta magica può attuare è una transizione che dipende anche dalle abitudini che noi abbiamo perché quando qualcuno ci comincerà a dire che guardate cosa è successo con la pandemia con la pandemia abbiamo limitato gli spostamenti abbiamo limitato i contatti sociali abbiamo dovuto limitare delle cose a cui eravamo abituati la gente non è contenta se noi dobbiamo ridurre i nostri consumi e rientrare all'interno dello spazio che abbiamo a disposizione che non è infinito dobbiamo cambiare radicalmente anche le nostre abitudini pensiamo solo ai voli in aereo quanto è bello quanto era bello prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo quanto è devastante fare quel viaggio parlo dell'aereo ma parlo anche del monouso quanto è comodo andare al supermercato a prendere le scattoline di uva e di pomodori già pronti e portarli a casa tanto così non si schiacciano non devo impazzire non devo mettermi i guanti prenderlo pesarlo è già tutto pronto è già tutto prezzato è molto comodo questo sistema è stato fatto per il benessere delle persone quindi perché le persone fossero comode e sono proprio le persone che poi alla fine lo sostengono sono anche le persone che lo sostengono è ovvio che ci sono gli interessi economici ma gli interessi economici tendono a soddisfare dei bisogni o dei bisogni indotti cosa fa la pubblicità ti induce un bisogno a cui noi col pensiero veloce soprattutto rispondiamo immediatamente con l'azione dell'acquisto quindi è fondamentale intervenire a livello locale perché modificazioni dei comportamenti aiutano anche chi poi deve prendere le decisioni a prendere delle decisioni che sono scomode perché guardate che tutte quelle decisioni che ci consentono di rientrare all'interno dello spazio sicuro per l'umanità sono tutte decisioni scomode che producono che non producono consenso e per chi è un politico che ha bisogno del consenso per essere lì il consenso non lo si trova qui se volete un'altra volta parliamo anche di come ibridare i nostri sistemi democratici per consentire al sistema di prendere delle decisioni che non riesce a prendere con il sistema di consenso che abbiamo in piedi la democrazia rappresentativa non si potrà mai consentire di prendere delle decisioni che vanno contro la comodità di ognuno di noi se qualcuno di noi ci dice che bisogna avere una macchina e famiglia siamo contenti sto dicendo una cosa molto molto banale però dobbiamo ridurre il numero delle macchine ci sono mille strumenti ma alla fine bisogna bisogna porre dei limiti il pianeta dei limiti non vengono riconosciuti dal sistema attuale tant'è vero che il sistema attuale parla di crescita economica infinita però vi do una una goccia di speranza giusto qualche settimana fa l'agenzia europea per l'ambiente prima istituzione governativa al mondo ha toccato il tabù della crescita economica ed è uscito con un report molto interessante se qualcuno lo può leggere è in inglese ma tanto google traduce tutto che si chiama crescita senza crescita economica dove la crescita è dell'uomo e dell'umanità e la crescita economica invece è un sistema artificiale che abbiamo costruito noi possiamo costruire uno diverso mentre l'uomo e il pianeta sono cose che rispondono a altre leggi che non sono modificabili vi mando il link dello studio del rapporto dell'agenzia europea per l'ambiente molto interessante perché tra l'altro cita anche l'economia della ciambella con cui abbiamo giocato fino a poco fa dicendo che è uno degli spunti che possono consentire di disegnare un sistema economico diverso e non pensare solo alla crescita perché oggi la crescita chiudo subito oggi la crescita è l'unico strumento in mano ai nostri amministratori per distribuire benessere se non c'è crescita non si distribuisce benessere non c'è modo di dare di aumentare il livello di benessere delle persone e quindi va tutto in crisi dobbiamo modificare qualcosa per poter comunque distribuire benessere e poter vivere prosperi e contenti comunque mi fermo grazie grazie Alessandro Gian Gaetano vuoi aggiungere qualcosa c'era anche una sollecitazione da parte di Poppi su anche su cosa ne pensavate sul via libera alle trivellazioni dell'Adriatico firmato tre giorni fa dal ministro della transizione ecologica adesso è arrivata anche un'altra domanda da Joel ma devo ancora leggerla intanto se vuoi dire qualcosa ma direi che quello che ha detto Alessandro Rossi è fondamentale io aggiungerei solamente alcune cose intanto sulla domanda di Alessandra Guerrini cioè nella mia presentazione mi sembra aver detto abbastanza chiaramente che i due approcci quello diciamo locale dal basso e quello più globale delle istituzioni devono andare avanti parallelamente perché è un po' impossibile che dal basso si possano cambiare ad esempio i sistemi il sistema della produzione energetica cioè certo possiamo inventarci e ci sono delle esperienze adesso non vi so dire dare i riferimenti ma li cercherò e cercherò di mandarveli di città che hanno dichiarato di rendersi autonome dal punto di vista energetico cose molto interessanti difficili anche da attuare questo è in dubbio però in generale ho stato bene anche prima Alessandro nel suo intervento diciamo le priorità che sono sicuramente il sistema produttivo energetico quindi di fornitura dell'energia e trasporto dell'energia il sistema dei trasporti di merci e persone e l'altro sistema importantissimo quello agroalimentare hanno bisogno di decisioni che non possono essere diciamo dei singoli o di gruppi di cittadini poi ci possono essere sicuramente esperienze e in questo senso vi manderò un un riferimento di un film che è uscito qualche anno fa qualche anno ma non tantissimi si chiama Domani in cui sono un film francese sono contenuti anche alcuni esempi di cose possibili fare ne faccio uno anche abbastanza conosciuto che può che può avere dei limiti ma può anche essere importante in certe realtà Detroit ad esempio e qui nel film si fa questo esempio è importante quello degli orti urbani noi a Ferrara conosciamo gli orti dei centri sociali sì anche questo ma si può andare oltre a questa situazione cioè in tutte le situazioni possibili e possibili si possono realizzare degli orti per l'autoconsumo o per un consumo condiviso sono piccoli esempi ovviamente un'altra cosa che volevo mi sembrava ci fosse una domanda sulla carne carne sintetica eccetera io ho lavorato trent'anni più di trent'anni come ricercatore nel campo delle tecnologie alimentari quindi insomma qualcosa so così questa cosa della carne sintetica diciamo si è presentata recentemente io sono convinto personalmente da una serie di esperienze fatte e cose lette che inevitabilmente l'umanità dovrà andare verso un consumo minimale di prodotti di origine animale questo è se vuole salvarsi come si diceva prima è una delle componenti ovviamente del problema ambientale di oggi però è un componente importante perché a cascata ne considera tanti altri quella della carne sintetica sì potrebbe essere una soluzione ma mi chiedo è proprio necessario mangiare la carne questo io faccio la domanda questo penso che tutti dobbiamo rispondere a questa cosa perché ci sono le alternative ovviamente non è che sia semplice cambiare come diceva Alessandro poco fa le abitudini delle persone nessuno può obbligarci a cambiare probabilmente saremmo obbligati dalla situazione ma accetteremo questo ecco concludo anch'io con delle domande bene grazie Gian Gaetano Alessandro Messina credo c'è una domanda per noi per la banca dove si dice il sistema di finanziamento alle auto che è sempre più in voga non è un incentivo a incrementare le auto cosa può fare la finanza etica e prima di farti rispondere dico io una cosa c'era prima quando aprite a Ferrara uno sportello di banca etica a Ferrara siamo già presenti con la nostra consulente di finanza etica che è anche qui presente Anna Maria Bernini e più abbiamo la filiale a Bologna e quindi come punto di riferimento c'è la filiale di Bologna e Anna Maria che risponde a tutte le vostre richieste e quindi sul sito della banca trovate i suoi riferimenti vai Alessandro sì poi nulla toglie che se le condizioni lo consentiranno e se continueremo a crescere come stiamo continuando a crescere possano arrivare anche ulteriori evoluzioni sul territorio di Ferrara come su altri territori però la nostra la nostra politica è sempre quella della sobrietà della come dire dell'investimento molto misurato lo facciamo sia per coerenza con quella normale prudenza gestionale che ci deve essere in un progetto che accomuna così tante persone sia rispetto alla alla grande turbolenza che oggi sta intorno ai mercati bancari ma anche direi per una sorta di ecologia di visione di sé perché anche le aziende hanno ruolo quando le banche hanno devastato le città italiane con gli sportelli e poi adesso li chiudono perché diciamo che negli ultimi vent'anni praticamente si sono aperti si è arrivati a 40.000 sportelli e oggi se ne sono richiusi 15.000 una cosa del genere sono impatti questi sono impatti di tanto tipo altro che l'energia del bicchiere e quindi anche qui siamo abituati a una logica egemonica anche nel modo di fare impresa ovviamente non è la logica di banca etica cerchiamo di essere in simbiosi con i nostri obiettivi con i territori in cui dobbiamo intervenire sicuramente ci fa piacere crescere perché è inutile dire che a qualcuno non faccia piacere ma dobbiamo farlo in questo equilibrio il tema sul finanziamento alle auto è uno dei temi come dire che hanno tante implicazioni noi fin dalla nostra nascita combattiamo con queste questioni controverse dell'uso del denaro ma come tante cose dipende perché comprarsi un'auto può essere un gesto voluttuario consumistico può essere un gesto che produce sviluppo perché magari c'è chi non ce l'ha o c'è chi ne ha un bisogno reale c'è chi la usa con molta parsimonia e anche qua bisogna valutare è evidente che sarebbe meglio andare tutti in bicicletta però sappiamo pure che in questo dobbiamo essere consapevoli della come del nostro essere di servizio fare banca significa questo per cui e non possiamo neanche fare l'inquisizione del consumatore del risparmiatore per cui come dire facciamo educazione facciamo formazione magari facciamo qualche domanda in più che altri non fanno su cosa devi fare con il denaro che ti prestiamo se hai valutato questa e quest'altra alternativa e dopodiché esiste la responsabilità individuale delle scelte che si fanno bene grazie Alessandro io direi che possiamo anche andare in chiusura ci sono alcuni messaggi che credo sia potete anche leggere c'è il messaggio di Lisa c'è il messaggio di Joel che sono delle riflessioni che sono nate un po' appunto dal webinar di questa sera grazie grazie a tutti per la partecipazione Alberto vuole fare un saluto deve riattivare l'audio sì grazie grazie a tutti un saluto doveroso ma anche rimane aperto un grande interrogativo ecco Alessandro Rossi ha parlato di una soluzione sistemica lente pensarci bene ma abbiamo il tempo di pensarci bene non siamo invece stimolati a trovare soluzioni in tempi molto molto contenuti chi pagherà i costi ci sono le tecnologie io penso che sia materiale per poter riflettere ancora su queste tematiche e eventualmente di ritrovarci e andare avanti qui abbiamo aperto purtroppo abbiamo una visuale sul baratro ecco ma cerchiamo di rimanere a guardare un futuro migliore non angosciati da poi l'altra cosa chi pagherà i costi proprio chi pagherà i costi se lo Stato o se i cittadini o sarà ora di cominciare a fare i pagari chi ha prodotto chi ha prodotto inquinamento e devastato l'altura niente credo che ringrazio comunque per il tema e per la contributa degli oratori Alessandro Rossi Gianluca Gaetano e Alessandro Messina che lo ringrazio perché abbiamo stiamo lavorando con piacere per una grande banca perché in questo momento c'è bisogno di un grosso cambiamento io vi saluto e sono stato onorato di aver avuto a Ferrara questo incontro grazie a chi l'ha consentito grazie grazie a tutti grazie di essere stati così numerosi fino alla fine buona serata ciao ciao Daniele grazie 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 a tutti ciao ciao arrivederci ciao a tutti ciao ciao Alessandro ciao 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 Zanga ciao Daniele grazie ciao grazie a te grazie molto interessante i link si potranno avere per vedere per magari ragionare sui video che ha mandato Alessandro e sulle slide sì se mi scrivi ok una mail io ti mando poi il link alla registrazione ok la mail la mando a chi la mail la mandi a lo scrivo qui nella chat così te la copi e fai ecco qua ok perfetto ok te la mando subito ti ringrazio moltissimo molto interessante i relatori veramente hanno con idee nuove finalmente non e non le solite idee tritte di tritte grazie molto molto interessante se vuoi vedere i video i singoli video che ho utilizzato sul canale canale youtube di Anci Emilia Romagna li trovi perfetto Anci Emilia Romagna grazie intanto scrivo per avere il link grazie ancora molto molto interessante io sono di Padova ho trovato tutto molto 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 diverso dal solito come presentazione grazie mi fa piacere buona serata ciao a tutti ciao 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 Gioel ciao a tutti c'è ancora Alberto no mi sta telefonando lo chiamo dopo se ne vuoi fare un altro ce n'è di materiale bene e allora magari lo organizziamo su un altro territorio così diamo visibilità ad altri Gitta anche Daniela sono Rosella grazie di tutto grazie di tutto mi sembra che sia andata bene per cui sono contenta sì buona serata partecipazione quindi sì infatti adesso insomma non so i partecipanti però insomma è stata interessante ecco quindi sì sono contenta bene mi fa piacere buona serata ciao Daniela ciao grazie io io ogni tanto mi diverto a rimanere fino alle fine per vedere quanta gente si è addormentata ecco ho mandato la mail e dopo vado sul Anci Emilia Romagna per vedere le cose grazie ancora una buona serata grazie grazie Paolo ciao cosa dice Alessandro chiudo io così chiudo tutti sì 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 grazie ancora ciao 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 Daniela ciao 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 Grazie.